giochi sul nostro podcast il podcast ludico benvenuti a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast al microfono fapos e qui con me stefano ciao e alex di gdt live eccolo qua ciao a tutti ciao a tutti allora ho fatto partire così la puntata subito per non perdere troppo tempo perché stavamo contropiede totale pigiama con i piedi sul tavolo stavamo parlando di davir che ultimamente ha fatto uscire un sacco di cose che sono andate in hype cioè allora sono andato a vedere nel sito parlavamo di delle novità è appena apri la pagina di davir davir games.com quindi il sito internazionale ti compare che deve uscire non è ancora notificato quando comunque un gioco che si chiama cities che costa 30 dollari un gioco che si chiama sand che costa 45 dollari sand dovrebbe uscire a maggio e sand è il più ciccione dei due si parla di di un peso elevato movimento su mappa pick up and delivery bisogna sfamare dei vermi del deserto che ci permettono di viaggiare nel deserto un po in stile dun che ora fa un po attira e siamo siamo dei commercianti che devono vendere e comprare le merci comunque allo stesso tempo hanno fatto uscire anche un war game di peso elevatissimo lasciamo stare e poi salton si che questo gioco ambientato in un lago dal quale si estrae il litio mi pare e dobbiamo sviluppare l'area industriale attorno a questo a questo lago tra l'altro salton si si vedono anche delle immagini della scatola stile proprio davir scatola piccola compatta un botto di materiale prezzo tenetevi forte 40 dollari sapete che io ho cominciato questa crociata per i titoli gt live zone non sbaglio assolutamente assolutamente praticamente devir è entrato di diritto nel nell'occhio di bure nel tuo portafoglio avrà il bonifico mensile no però vedo che sono tutti i titoli tutti no però quasi tutti con la fascia entro i 40 euro che come sapete cerco di nobilitare con la mia crociata ma apriamo una parentesi fa perché ha cominciato così a tamburo aspetta aspetta un attimino visto che ti concentri sulla fascia 40 ma hai dei margini di scatto perché ci potrebbe tranquillamente entrare anche sand che costa 45 e ho visto dipende da quanto è bello quei 5 euro devono devono essere devono convincermi sarà 44 e 99 quindi vai esattamente esattamente no allora intanto visto che stavamo abbiamo la solita finestra dietro le quinte che a chi ci ascolta piace piace tanto visto che abbiamo deciso che dalla prossima puntata cominceremo a preparare il terreno per per modena play allora vuol dire che devo la mia la mia crociata personale sarà anche quella di portare qualche contributo di devir che è una missione quasi quasi più che impossibile e vedremo se riuscirò a portare un'intervista come quella di questa puntata ne abbiamo due giusto come quelle di questa puntata ok vabbè allora mentre siamo in spoiler mood direi che se rimanete fino alla fine del podcast lanciamo una super bomba con la m maiuscola e questo era un piccolo indizio ma la diciamo alla fine così invitiamo i nostri ascoltatori a stare con noi incollati al podcast ma lascio la parola a voi alla fine lo diciamo ma avete capito voi giusto perché poi io non ho capito qual è la bomba l'ha mandata ieri alex sul gruppo whatsapp che abbiamo ah ok 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 quella che tu hai detto io corro sì 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 ok ok questo era il dietro le quinde abbiamo un gruppo whatsapp ci sentiamo costantemente più delle mogli ci vediamo un sacco di bacini baci a bracci dai dai cominciamo cominciamo allora cominciamo abbiamo già cominciato perché a Fappos secondo me non gli piace questo mood del fatto che stiamo replicando ecco appunto scusa il dietro le quinte diciamolo tutto infatti diciamo la verità ci sono dei poteri forti ci sono dei poteri forti è la seconda volta che registriamo questa puntata perché io ho cannato a registrare dieci giorni fa la prima registrazione ma ripeto ci sono delle forze che agiscono nell'ombra perché eravamo solo io e Fappos evidentemente chi governa i fili di questa realtà il podcast sia io esatto ha detto no io non ci sto e quindi basta puntata cancellata gli ho rovinato la puntata meglio così dai meglio così meglio così assolutamente assolutamente 15 comunque vai un piccolo inciso e una piccola parentesi poco fa hai detto sono pronti sono pronto a dare il bonifico mensile i 40 euro alla devir ma effettivamente nel gioco da tavolo quando arriverà il cosiddetto leasing tipo sai tutte queste cose compra la macchina in mese fai l'abbonamento netflix cioè ancora non c'è nulla di simile però però su game found hanno messo lo stretch pay che ti fanno pagare il gioco quindi ci avviciniamo sì sì però non c'è ancora quella cosa mensile tipo 12 non vorrei dire una cavolata non vorrei dire una cavolata ma in Francia mi pare ci fosse un servizio a domicilio tipo prenotavi il il nerdaccio di giochi da tavolo che con lo zaino tipo quelli che vendono tipo il delivery esatto tipo il delivery bravissimo tra l'altro si presentavano scatole quadrate sì assolutamente si presentavano con lo zaino che vedi anche a Modena che per primi avevano venduto quelli di Red Glove pieno di giochi viene lì a casa tua con te e i tuoi amici dopo la pizza e ti in tavolo a un gioco e giocate ti ripeto so che esisteva non so se l'avventura nel frattempo è fallita ma secondo me gli ascoltatori del nostro podcast ne sanno più di noi quindi commentate stracommentate se avete notizie in merito assolutamente vabbè scusate la divagazione forse avrà senso nel quando parleremo del mercato del 2024 o 25 e 26 cavolo vabbè siamo indietro però recupereremo allora la prima news che dobbiamo lanciare è quella di Dado Critico vero? assolutamente assolutamente allora Alex la lanci tu e spero che ti ricordi il nome del gioco vabbè però sono merda allora fermi tutti fermi tutti vabbè questa la tagliamo dai questa la tagliamo la casa delle mannaie aspetta aspetta è perché cavolo Dado se mi ascolti titoli più semplici cioè una, due parole quattro lettere credo olifante sì sì comunque dai la casa delle mannaie dovrebbe essere un nome del genere speriamo bene ad ogni modo sì praticamente abbiamo avuto notizia contenza del fatto che Dado dopo il libro che ha fatto tanto parlare di sé l'anno scorso e che ho modestamente autografato dall'autore si è lanciato il mio più bello il si è lanciato anche nella nell'autoriale dei giochi da tavolo quindi Olifante che per me è un po' una sorpresa vedere diciamo come primo editore perché sono più abituato a vederlo o no come localizzatore o comunque a cercare prodotti un po' particolari da in giro per il mondo invece a quanto pare Olifante si imbarca in in questa in questa impresa evidentemente deve essere convinta dall'operato di di Dado che ricordiamo essere in origine un blogger se non sono conosciuti il suo blog andate assolutamente a cercarlo Dado Critico riesce a mescolare in maniera unica possiamo dirlo vita quotidiana con gioco da tavolo aneddoti scrittura e così via quindi bravo scrittore ottimo scrittore ottimo blogger e autore se ottimo autore lo scopriremo però per farci spiegare il gioco chi meglio di Dado stesso quindi via al contributo ciao ragazzi io sono Andrea Dado e anzitutto grazie per avermi invitato qui a raccontare qualche parola su quello che è il mio primo gioco da tavolo il titolo è La casa delle mannaie ed è un gioco di carte a tema horror per 3-7 giocatori della durata di 10-15 minuti circa un gioco molto veloce per il mio primo gioco ho voluto creare qualcosa che divertisse anzitutto me io sono notoriamente un amante dei film horror ricordo che quando ero ragazzino aspettavo l'estate per guardare la mitologica notte horror su Italia 1 e stare alzato fino a tardi e guardare quei deliziosi film ecco ho voluto cercare ho voluto creare un gioco che ricreasse quelle atmosfere quelle atmosfere di casa maledetta con una serie di personaggi che non credono alla maledizione e si introducono nella casa per i loro interessi e uno a uno finiscono per fare una brutta fine e la casa delle mannaie è un gioco di carte asimmetrico a scelta simultanea ogni giocatore sceglie dalla propria mano una carta la mette giù coperta e poi si rivelano contemporaneamente volevo creare un gioco di carte semplice infatti il regolamento si spiega veramente in 10 minuti che potesse riunire al tavolo appunto un gran numero di giocatori 6-7 e che trasmettesse tensione volevo che i giocatori avessero paura di giocare la propria carta del turno il gioco ha tre differenti condizioni di vittoria anzi quattro ce n'è una segreta e lascerà i giocatori incerti fino alla fine della partita cioè non sarà possibile fino alla fine sapere chi vincerà e di fatto chi sopravviverà l'editore Olifante nella persona di Gianfranco Fioretta il mitico Gianfranco Fioretta l'illustratore Paolo Valerga che è un artista molto noto nella community italiana il formato del gioco è il classico 110 carte quello tascabile che io amo molto come detto spero che trasmetterà un po' di tensione ai giocatori che si troveranno a raccogliere monete a nascondersi nella vila maledetta a schivare colpi di mannaia e a restituirli con altrettanta violenza e niente incrocio le dita che appunto tutto vada bene non ci siano intoppi produttivi o di logistica spero appunto di potervi terrorizzare con le mie mannaie a play di modena quest'anno vi ringrazio e per chiudere vi lascio con una vecchia frase di Totò il coraggio non mi manca e la paura che mi frega ciao ragazzi un abbraccio a tutti eccoci di nuovo tra noi e con cosa iniziamo vediamo un po' vediamo un po' intanto se vi è piaciuta l'intervista ah no aspetta aspetta Alex sa già quello che sto per dire sentiamo no se vi è piaciuta l'intervista cosa che cos'è 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 che facciamo se gli è piaciuta l'intervista eh commentate condividete fate conoscere il podcast soprattutto vado a rompere le balle magari a quelli di Olifante così scopriamo ecco David e Olifante già sono nella mia wanted list mandateci una copia perché sta per arrivare una mail in cui vi dirò ciao ragazzi vorrei fare un'intervista no invece sì cose del genere insomma come fare altrimenti vengo con le mannaie esatto altrimenti la mannaia non sarà nel gioco allora riprendo io con delle notizie di mercato no fresche e fresche che Alex sa già però Stefano no quindi ora Stefano addrizza bene le orecchie perché è uscito a fine febbraio è uscito no Asmodee ha dichiarato a fine febbraio un po' come l'andazzo no economico delle vendite di giochi giochi da tavolo allora ha dichiarato a fine febbraio che la vendita dei giochi da tavolo per tutte le sue nazioni quindi parliamo di Asmodee Global International è aumentato dell'1% con vendite nette di circa 437 milioni di dollari nel terzo trimestre 2023 che è il trimestre che loro hanno preso in esame detto in questo trimestre qui abbiamo avuto l'incremento quindi sembrerebbe che questo incremento positivo che avevamo detto anche nell'ultima nell'ultima puntata sia bello tosto però esatto tra l'altro non è soltanto in Italia è proprio globale poi ha detto su base annua fine 2023 contro fine 2022 invece le vendite sono inferiori dell'1% rispetto all'anno precedente per via del fatto che si sono concentrato molto su diversi giochi lcg in fase di costruzione lcg non l'avevamo detto sì esatto però praticamente dicono che si stanno impegnando leggi tra le righe se è calato dell'1% e per loro l'1% è comunque tanto significa che si sono concentrati un botto su questi living card game che cosa sarebbero car altered poi il gioco di star wars che non mi ricordo come si chiama unlimited sì esatto perché mi dicevi che loro in realtà con lcg intendono anche però i collezionabili diciamo quelli che appunto stai dicendo ora quindi non solo sui living card game che ci possono fare in mente quelli di fantasy flight ma anche appunto questi nuovi bravo 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 no no ed evidentemente c'è anche keyforge scusate in mezzo perché lo stanno rilanciando sì anche se anche lì non direttamente perché in realtà l'editor è un altro sappiamo che c'è questa galaxy phantom galaxy non mi ricordo più come si chiama però vabbè loro sono i distributori quindi in qualche modo ci metteranno ci metteranno il becco ma in realtà come accennavo a fa post poco fa il discorso ovviamente è più interessante se andiamo a guardare un pochino oltre Asmodee e più precisamente chi possiede Asmodee che è Embracer Group apro una parentesi velocissima Embracer Group è una entertainment company insomma comunque è quelli della mia età la conosceranno meglio con il nome di THQ che se siete dei videogiocatori avrete visto apparire all'inizio dei videogiochi nei titoli di inizio un miliardo di volte perché è stato ed è col nome adesso di Embracer uno dei più grandi produttori di videogiochi periodo pandemia ha cambiato nome anche perché si è fuso con altre realtà e hanno fatto un fantastiliardo di acquisizione qualunque studio di videogiochi era sotto la loro attenzione molti li hanno acquisiti e hanno acquisito un'enorme quantità di IP cioè di licenze sostanzialmente in questo bailam di acquisizioni di videoludiche è finita dentro anche Asmodee perché un po' perché Asmodee noi lo ignoriamo a volte ma ha comunque tutto una sua un suo ramo di app e di giochi diciamo così videogames ma comunque perché nell'ottica di differenziazione Asmodee dal fatto che il risultato di Asmodee è ancora più notevole si è messo in ottica della situazione in cui vertono gli studios adesso cioè Embracer ma non solo lei sta chiudendo licenziando un sacco di persone in realtà notizie come queste nel mondo dei videogiochi sono sempre più diffuse Xbox Playstation tutti Electronic Arts stanno licenziando tutti questo perché la bolla della pandemia si sta sgonfiando e Embracer che stava diventando cercando di imporsi come vero big cioè uno dei big di questa situazione come gli altri sta licenziando sta riducendo tutto quanto e però a quanto pare con Asmodee ci hanno visto ci hanno visto bene perché effettivamente stanno tenendo e stanno ottenendo risultati stanno ottenendo risultati quindi ecco per questo dico ancora più notevole nel senso che in uno scenario di una proprietà che è in difficoltà sicuramente Asmodee dovrebbe dovrebbe godere di buona salute all'interno del del conglomerato anche se purtroppo ho letto per esempio che Asbro anche Asbro ha dovuto ridurre tantissimo il personale e l'ha fatto anche in settori in in attivo come e quindi insomma non è sempre detto che passarsela bene vuol dire evitare la scuola però dai comunque nel senso io credo che dobbiamo essere tutti contenti se Asmodee che vuoi o non vuoi può stare simpatica può stare antipatica tutto quello che vogliamo ma io credo che in qualche modo debba essere considerato un po' un volano per tutti più ma forse di Asbro no però più di magari altri editori che magari troviamo il supermercato per intenderci perché comunque Asmodee secondo me è un po' quella via di mezzo tra il gioco da S lunga e il gioco del negozio di appassionati e secondo me dobbiamo un po' non dico tifare ma dobbiamo sperare che Asmodee se la passi bene perché penso che se la passa male se se la passa male è un campanello d'allarme grosso esatto comunque è un buon indicatore certo comunque l'ultimo secondo me Asmodee scusate non se la passa male perché Stefano di cosa parlavamo giusto in chat ah è appunto ma quella la diciamo alla fine ah giusto scusate scusate madonna comunque se la passa bene allora fine ok no vabbè allora aspetta cambiamo discorso comunque l'ultimo pezzo l'ultimo pezzo che ha perso è la Cyber Interactive che è quella che fa i videogiochi di Warhammer 40.000 e vari articoli dicono che abbia perso Stia perdendo Embrace Group stia perdendo pezzi semplicemente perché non ha ricevuto un grosso fidanziamento arabo che era previsto non sono riuscito a sciare dal principe saudita che non mi ricordo come si chiama questo principe che è quello che ha finanziato il calcio che ha tirato tutti i bico ora non sono riuscito ad averlo e quindi sembrerebbe che per colpa di questo stia vendendo i pezzi comunque vabbè sono news così chissà se sono vere cambiamo argomento vai vamos allora 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 dopo che vi ho detto queste bellissime notizie di economia passiamo a oh io ve la do una notizia bella della Rebel Studio questa mi piace Rebel Studio è la stessa che ha fatto uscire il Kronika di Abella no? per intenderci è un gioco che a me è piaciuto tantissimo e ci gioco ancora adesso ha vinto il premio dell'anno 2023 e il suo autore è Przmek Wetzwiak comunque puoi ripeterlo perché la pronuncia polacca proprio Przmek Wetzwiak è già meglio non ho ancora ben capito l'accento se va sulla A o sulla E però vabbè dai te la concedo io non ho capito quante W ci sono nel nome però dopo dopo lo inserisco in Google traduttore soltanto per sapere come si dice comunque questo bellissimo autore questo bellissimo editore si sono di nuovo alleati per far uscire il seguito spirituale delle cronache di Abella che si chiama Dungeons & Legends cioè un gioco cooperativo di nuovo stand alone con elementi di avventura e deck building introduttivo lo farò uscire nel tardo 2024 ma cos'è in realtà Dungeons & Legends non è non è nient'altro che la volontà da parte di Rebel di espandere l'universo di Avel perché evidentemente dopo le cronache di Avel dopo aver fatto uscire la campagna un'espansione con campagna per le cronache di Avel si sono resi conto che forse è un qualcosa che può avere un seguito e ora tasteranno con Dungeons & Legends come andrà a finire questo mondo di espandere e di fare gli universi sembrerebbe una cosa che in Italia già qualcuno ci stava già pensando e ora vi ho colto la sprovvista a tutti e due lo so ha fatto da precursore direi se è l'editore che sto pensando io io stavo pensando alla Ludus Magnus perché con Nova Atheas Renaissance eccetera Black Rose Wars hanno fatto un vero e proprio universo collegato tra di loro invece tu a chi ti riferivi? no un altro editore che non ha creato un universo ma che dal punto di vista giochi di tavolo sicuramente ha fomentato un universo già famoso è Ares Games perché si dà il caso che io abbia scambiato due chiacchiere con Roberto Di Meglio Deus Ex Machina di Ares Games che è un editore in Italia ma che si muove sul mercato come editore internazionale e giustamente parandomi dei loro giochi mi sottolineava come appunto poter far affidamento su un brand non tanto come il Signore degli Anelli che ovviamente è un brand che ha peso ma i giochi da tavolo che loro hanno fatto sul Signore degli Anelli gli garantisca una certa fidelizzazione da parte dell'utenza perché giustamente loro sanno che loro intendo gli acquirenti sanno che Ares quando maneggia la licenza del Signore degli Anelli non solo fa giochi belli ma fa giochi super rispettosi del del tema del canone diciamo si del canon la parola inglese però non abbiamo parlato solo di quello giusto Fapos anche delle novità ma ti ricordi le tre novità sì allora io non ce le ho segnate ce le ho segnate io le tre novità più una di di Ares le abbiamo scovate appunto in questi giorni che stavamo come sempre come cani da tartufo cercando grosse novità e mi sono imbattuto in Ares che ha a tre barra quattro assi nella manica a seconda del tipo di giocatori che siete i titoli sono Altai Viking Root Builders of Sylvan Dale e Mega Empire West di questa chiacchierata che ho fatto con Roberto Di Meglio ho fatto una registrazione che potrete ascoltare in forma completa su GTT Live più o meno nei stessi giorni in cui sentirete questa puntata mentre tu Fapos cosa ci farai ascoltare di questa intervista lunghissima vi faccio ascoltare soltanto alcuni estratti dove spiega lui in prima persona cosa bisogna fare come sono strutturati questi giochi vai con l'audio di The Rich and the Good abbiamo lanciato l'edizione in lingua inglese adesso stiamo per lanciare un'edizione multilingua che comprende l'italiano quindi la prossima stampa sarà un multilingua che comprende l'italiano quindi diciamo speriamo che abbia più distribuzione anche nel nostro paese Quartermaster General che appunto adesso si sta sviluppando con una nuova serie di giochi che inizia con Eastfront su questo siamo in collaborazione nell'altro verso sempre con Ergo Ludo che sta curando appunto l'edizione italiana di Quartermaster General di Eastfront io la prima tripletta di giochi che avevo visto era Altai o Altei adesso sì sì Viking Root e Builders of Silvan Dale il Silvan Dale esatto che sono i tre giochi che abbiamo presentato a Norimberga esatto li abbiamo trovati lì infatti alla lista dei giochi di Norimberga allora io ho un debole per il deck building quindi il primo che mi ha accattato il mio occhio è questo Altai sì civilizzazione se vogliamo Kingdom Building in un certo senso perché appunto è un po' parte dell'evoluzione di questo titolo che nasce appunto prettamente come un deck building a tema civilizzazione quindi con nella diciamo versione originale di di Ole Steines su cui poi noi abbiamo lavorato insieme con Paolo Mori per per lo sviluppo in pratica nella versione originale di Ole era più prettamente appunto deck building e tema civilizzazione ogni giocatore partiva con una sua board specifica leggermente asimmetriche secondo me la civilizzazione che controllava e attraverso l'engine di sviluppo del mazzo andava sia a sviluppare il mazzo stesso a sviluppare il proprio tableau diciamo che rappresentava appunto la propria civilizzazione e a acquisire diciamo quindi nuove capacità nuove tecnologie quindi sia sul tableau che sul che sul deck diciamo acquisendo nuove carte quindi c'erano comunque due dimensioni quel gioco era un po' carente sotto il profilo dell'interazione ok allora abbiamo insomma abbiamo analizzato un po' la questione insieme con Paolo Mori e Paolo ha proposto una bella soluzione che sostanzialmente è trasformato un po' il gioco appunto inserendo un elemento di sviluppo su una board quindi sostanzialmente tu hai proprio anche fisicamente topologicamente l'espansione del tuo dei tuoi domini questa la presenza ovviamente la compresenza dei diversi giocatori sulla board ovviamente crea aumenta l'interazione di interazione più alto e l'elemento di sviluppo del tuo tableau personale è rimasto ma si è trasformato diciamo in quello che attualmente sono praticamente le carte di tecnologie che acquisisci quindi invece di andare a sviluppare la tua board acquisisci queste nuove tecnologie ma sostanzialmente diciamo corrisponde a cosa e ovviamente l'elemento di rack building è comunque sempre il motore prevalente di gioco poi ho visto questo viking root che riutilizza se ho capito bene un po' delle logiche di the faceless esatto il magnete esatto esatto come questo è sempre appunto un gioco di base di Martino Chiacchera e Guidalbini però anche qua il team poi si è espanso con il contributo di Luca Maragno e di Mattias Massetti per la parte grafica sostanzialmente vede la bussola come pezzo di gioco principale diciamo rappresentare il tuo pezzo di gioco principale e la presenza di pezzi magnetici intorno al tabellone che influenzano la direzione in cui punta la bussola e quindi la possibilità di spostamento del tuo pezzo il gioco presenterà una serie di scenari diversi quindi proprio con delle board fisicamente double sided quindi ogni board ti presenta una situazione di gioco diversa attraverso tutti i diversi regni diciamo del mito Norse del mito dei vichinghi attraverso cui quindi diciamo il tuo Dracar si va a spostare per realizzare missioni diverse è stato espanso molto la possibilità di azione dei tuoi personaggi che è rappresentata in pratica dal Dracar che è un pezzo se ne hai visto qualche foto è un pezzo anche visivamente molto spettacolare praticamente diciamo che il Dracar è un po' una board di worker placement per cui tu con i tuoi personaggi decidi che cosa fare sul Dracar vai a livele per influenzare lo spostamento vado al timone per influenzare la velocità al timone per influenzare la direzione vado alla ballista che c'è a prua per poter sparare meglio i mostri vado giù nella stiva a cercare i nuovi oggetti quindi hai la possibilità di fare diverse cose e quindi poi resta l'ultimo diciamo questo Builders of Sylvan Dale che è un gioco di tessere che però si sviluppa in una più in verticale piuttosto che in su due dimensioni esattamente esattamente questo Builders of Sylvan Dale è un gioco di Peter Ridgway un autore americano che ce lo presentò qualche gen con fa ha un meccanismo card driven sostanzialmente per cui tu in pratica in funzione delle carte che hai vai a poter piazzare il tuo pezzo su uno di vari alberi disponibili con la corrispondenza praticamente tra quello che c'è sulla carta e quello che c'è sulla cima dell'albero in quel momento la tipologia di edificio diciamo della cima dell'albero ti dice ok puoi piazzare su questo albero su quest'altro alla fine sostanzialmente nello sviluppo si sviluppa poi come un gioco di maggioranze nel senso che tu con il piazzamento delle tue tessere vai a cercare di stabilire la maggioranza per il controllo di un albero che è data diciamo da chi ha più tessere sull'albero e a parità fra chi ha le tessere più in alto e il controllo sui vari distretti in cui è divisa questa foresta quindi diciamo maggioranza sull'albero e poi maggioranza di alberi all'interno del distretto allora io ti ho già rubato abbastanza tempo e ti ringrazio tantissimo ti chiedo solo due parole su un progetto che mi pare mi veda coinvolti e che nella mia testa è un progetto che quando li vedo dico ma questi sono matti che è Mega Empire mi pare che si è per uscire il West o l'East prima adesso non so quale esatto anche qui per chi non lo conoscesse è uno di quei giochi mastodontici è il discendente in linea diretta del famoso Civilization e dopodiché cosa è successo che 999 Games diciamo trovandosi a dire vabbè che facciamo lo ristampiamo non lo ristampiamo eccetera insieme con gli sviluppatori che poi appunto sono Flo Deann e Gerard Deann con cui stiamo attualmente lavorando insieme agli sviluppatori in questo progetto hanno deciso di ridurlo fra virgolette in una formula un pochino più gestibile e quindi lo hanno suddiviso in due prodotti in due prodotti in due set appunto chiamati Western Empires e Eastern Empires che erano due set ciascuno fino a 9 giocatori uno appunto da 5 a 9 uno da 3 a 9 che potevano poi comunque essere ricombinati insieme per creare nuovo l'esperienza a 18 esatto esperienza completa a 18 e quindi niente questo diciamo è il penultimo capitolo dopodiché è successo che i 999 Games che è un'azienda in cui in realtà questo era un prodotto un po' strano per loro perché loro sono un'azienda prettamente olandese e prettamente di giochi per famiglie sono gli editori olandesi di Catane e Carcassonne per capire quindi diciamo è un progetto un po' strano per loro e appunto quindi hanno deciso di come dire dividere le loro strade con da questo progetto e dagli sviluppatori e quindi diciamo noi ci siamo trovati nella situazione di di poter negoziare con la nuova società creata appunto da Idean Colossus Games di di riprendere le redini di questo progetto e quindi riproporlo riproporlo espandendolo come se come se ce ne fossi messo infatti oh ma che figata che figata senti Alex se dovessi sceglierne uno ne compri uno ne compri uno ne compro uno Fapos mi pare che mi avesse detto che a te secondo i tuoi gusti potrebbe piacerti più Viking Root perché c'è appunto questa meccanica delle calamite non so se conosci The Faceless come gioco che è uscito qualche anno fa e quindi sì loro hanno ripreso un po' con la meccanica ma hanno inserito questa gestione della crew della nave non rena praticamente per rendere il gioco un pochino più profondo e deterministico nel senso se ti ricordi The Faceless sì era governabile ma anche no nel senso ovviamente nessuno sapeva bene come si potesse reagire la bussola di fronte a certi a certi magneti quindi se ti piaceva se ti intrigava The Faceless e ti piace quest'idea che possa avere un livello di gestione se vogliamo della crew in più secondo me può fare il caso tuo io mi pare di aver visto qualche foto con la nave ma sai che a me sembra di averla vista ma non l'ho mai più trovata anch'io credo di aver visto una foto in giro io la nave non lo so però io ho già visto la copertina è in stile un po' fumettoso molto carina molto ok sì 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 vi confermo la nave se andate sul profilo facebook di Martino Chiacchiera post del 28 febbraio c'è proprio l'anteprima del gioco credo sia il prototipo finale prestampa c'è proprio la nave in cartotecnica i personaggini stand con gli stand trasparenti hai capito così indiretta questa bomba bello oh però prima di passare all'altro argomento vi faccio ascoltare l'audio e voi mi dite a cosa si riferisce pronti? pronti allora posso dire che forse mi è più comprensibile come lo dice Papos con tutto rispetto per google traduttore io mi adeguo alla lettura di Papos beh questo era il nome dell'autore di The Cronache di Abel esatto Prinsenek Wudyak vedi mi fanno morire i polacchi che hanno queste PRZ che sono vabbè dai questo era per ridere a metà puntata e tenervi svegli no va bene comunque non avevo ancora finito perché sempre lo stesso editore Rebel Studio era lo stesso che aveva fatto Meadow non so se vi ricordate quel gioco dove col gattino o sbaglio era tipo una lontra non lo so dovevi comporre il tuo il tuo panorama con con l'ambiente un set collection si esatto i panorami le creature gli animali che vede ok cosa hanno fatto la Rebel hanno fatto una sorta di espansione o meglio è un libro game con elementi da gdt e questo libro game è a campagna e può essere giocato non spiega come in legacy like insieme a Meadow il gioco da tavolo base cioè hanno praticamente creato un ibrido che si si può giocare da solo oppure essere fuso al al gioco base e perché dico questa cosa del giocato da solo fuso perché in realtà in questa puntata se noi andiamo a vedere il Mega Empire della dell'Ares Game è uguale loro hanno creato questi due titoli Mega Empire West ed Est o West ed East che possono essere giocate da solo e prevedono tipo 3 o 9 giocatori una durata di 2 ore 3 ore esatto oppure li puoi unire insieme e giocare fino a 18 giocatori contemporaneamente un monster game compartito ovviamente però lunghissimo e se dopo riesco vi faccio vedere un altro esempio di di cosa è successo al gamma di altri titoli che si possono essere giocati da solo o combinati tra però è ancora spoiler e cambiamo argomento ma sai cosa io ti butto lì una cosa così chiudiamo con smekvotniak perché te l'ho servita su assist ti lancio l'assist con ansa guild si è vero farò un nuovo gioco beh è molto attrae comunque questo gioco ha anche una grafica che è un po' ansa guild che è un family plus il titolo ansa guild ansa guild comunque è un family plus in cui bisogna sviluppare la propria gilda di costruttori è un piazzamento lavoratori e devi portare a compimento i tuoi contratti di vendita spostando su una mappa comune le tue navi e le tue bella grafica però molto pastello cartoon però questo è il ora non ve lo dico io mi ricordo il nome della casa editrice ve lo dice dopo esatto però è il primo gioco è il primo gioco di questa casa editrice un po' strana bianca organacia turistica che pure l'artista per caso è ancora più semplice è un tal Bartonee Gordovski quindi e questa era facile sì no questa era facile scherzi è sempre lui aspetta il designer che però ragazzi allora il gioco cioè io più lo guardo più mi piace però sempre più mi stupisce il fatto che l'editore tradotto in italiano è organizzazione turistica di Danzica cioè sembra quasi sapete uno di quei progetti per promuovere è uscito il Madunin una volta che era una specie di che ne so trivial pursuit di Milano no però di livello cento volte più alto sì qualitativamente te lo confermo perché se googli l'editore il nome di questa casa editrice che in realtà a questo punto non è una casa editrice è proprio il sito turistico di Visit Dansk che sarebbe Visit Dansk quindi è proprio l'editore si faranno da avvicinati di questo gioco qui assolutamente un'iniziativa notevole notevole per un gioco che si presenta poi giocarlo voglio dire poi il designer abbiamo appena detto che titoloni sta tirando fuori quindi non è il primo che passa quindi un ottimo un ottimo designer un ottimo design estetico del gioco ragazzi vediamo speriamo che arrivi perché sapete poi quando ci sono in ballo questi editori un po' piccoli probabilmente il banco di prova sarà Essen se lì ci sarà un po' di cacchiericcio a riguardo lo vedremo anche da noi però ecco mi fa venire voglia di giocarlo sembra un po' un gioco alla Devir non vi sembra? come... sì 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 ci vedo la scritta verticale blu all'angolo beh sicuramente sarà oggetto di localizzazioni se... interessante volete un'altra news? siamo qui per questo siamo per questo scendiamo un attimino in casa Asbro o meglio Avalon Hill che ha detto che nel 2024 uscirà la nuova il nuovo rifacimento di Talisman sarebbe la quinta edizione se non sbaglio The Magical Quest Game e io vi dico nonostante ogni volta che lo gioco vengo assalito vengo assalito da un senso di disperazione perché non finisce mai non riesco ad odiarlo non riesco ad odiarlo cioè per qualche motivo c'è qualcosa di satanico sono quelle riedizioni che si affacciano a chi il gioco se l'è perso la prima stampa quindi io no però non ho neanche la curiosità sono sincero perché fidati perché le diamo a fare queste notizie che lo ama ed è giusto così è giusto così sì sì c'è gente che è già è caduta dalla serie o della serie questi stronzi non capiscono niente esatto è un gioco della mia infanzia lo dirà voi due non lo dirà me probabilmente no però cioè riesco comunque a farmi riesco a non sempre farmi abboccare allora vi lancio due notizie tristi siete pronti? vai allora la portal studio è una nota azienda che fa kickstarter o game found no lancia progetti eccetera ne ha lanciati due che sono robison crusoe collector edition che dovrà uscire in italia da pendragon e poi un progetto un american che si chiama torgal ispirato a un fumetto e dovrà sempre anche lui uscire in italia grazie a pendragon praticamente la robison crusoe collector edition doveva uscire mesi e mesi e mesi fa e ancora non si vede nulla la portal studio ha dichiarato pochi due settimane fa praticamente da quando siamo registrati tre settimane fa che uscirà a maggio anche in retail contemporaneamente cioè di solito uno fa il kickstarter per avere un qualcosa prima purtroppo con i ritardi e tutto uscirà tutto insieme e torgal anche lui farà ritardo e uscirà in retail e in kickstarter a fine 2024 purtroppo non è sto per lanciare due notizie un po' tristi è successo anche che si è uscito una volta il retail prima ancora del a chi ti stai riferendo a tinitubo o cars comunque vabbè dai diciamo che quando si fanno questi ragionamenti la risposta easy è però tu hai gli stretch goal oh no aspetta ci siamo dimenticati di parlare di una cosa importantissima lascia fare che adesso arrivo lascia fare che ce l'ho lo sto lo sto cuocendo lo fai te secondo me c'è una bomba dopo l'altra aspetta aspetta ora Alex la dirà perché aveva già parlato nella precedente puntata che abbiamo fintamente registrato l'altra volta e tu Stefano ci dirai se il progetto ti piace allora io sono abbastanza fomentato su questo progetto ve lo dico intanto perché il designer è Eric Lang che mi piace e mi piace definire come il meno American tra gli autori American perché insomma nei suoi giochi c'è sempre un po' di di calcolosità mettiamola così quindi il designer mi piace e mi piace sulla carta ma essendo Asbro poi sono ovviamente parole che poi devono essere confermate dai fatti mi piace la dichiarazione forte di Asbro che pubblicherà sotto marchio Asbro quindi senza usare nessuna delle sue sussidiarie un gioco di Eric Lang gioco dichiarato come il perfetto punto d'unione tra per i giocatori casual che si vogliono affacciare ai giochi un pochino più complessi e che se farà successo sperato potrebbe tracciare una nuova strada per l'intera azienda quindi diciamo dichiarazioni piuttosto romboanti aspettative basse per un gioco che adesso ve lo descriverò è interessante ma che forse caricare di così tanto aspettative insomma non lo so diciamo che magari l'hanno voluto queste sono dichiarazioni che vi riporto di Essen quindi forse serviva anche un po' per farlo emergere tra i 2500 o 3000 giochi che ogni anno vengono presentati in fiera ok però diciamo che comunque sono parole che hanno accompagnato questa presentazione l'ambientazione qual è siamo per tornare ad un tema caro a FAPOS c'entra un po' l'ecologia nel senso che noi umani ovviamente col cervello grande come quello delle galline abbiamo sostanzialmente logorato il nostro pianeta e dopo un cataclisma apocalittico stiamo cercando di ricostruire un po' la nostra la nostra società e quindi l'ambientazione anche i disegni ricordano quindi non so strutture moderne però colonizzate da piante piuttosto che mezze sotterrate un'ambientazione un po' di questo tipo e ognuno di noi dovrà costruire l'avamposto migliore e anche più ecosostenibile diciamo come si costruisce questo avamposto se conoscete King Domino o l'ancor più famoso Carcassonne la logica di base è quella cioè è un piazzamento tessere qual è la differenza che Life in Re Terra vuole apportare cioè qual è questo famoso di più rispetto al gioco proprio casual che quindi farebbe da ponte per introdurre un livello di complessità in più il livello di complessità in più è che voi non solo dovrete preparare la vostra plancia il vostro terreno il vostro territorio ma su questo territorio e si fanno comunque punti collegando i soliti discorsi tanti campi di grano fate un po' di punti collegando tante paludi fate un po' di punti insomma quel lato c'è già visto diciamo così ma su questo territorio che voi costruite potrete edificare ok quindi il 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 qui di in più sta proprio nella costruzione di strutture che possono quindi essere piazzate sul territorio che costruite e che danno nuova abilità e possibilità di punti vittoria extra alcuni esempi il giardino che costruirlo da di per sé punti vittoria ma farlo su un'area di almeno 7 quadrati uguali darà punti vittoria extra devo costruire la locanda che a ogni fine turno diciamo sparerà fuori consentitemi il termine cioè in un quadrato adiacente un cliente in più e ovviamente più clienti avrai a fine partita più punti vittoria avrai ma c'è anche dell'iterazione e questo è molto particolare secondo me in un gioco che si orienta a chiamiamolo Family Plus ok questo famoso ponte tra il casual e il e l'hobby esatto perché c'è diciamo nel tessere che noi piazzeremo ci sono anche degli artefatti o comunque delle icone che ci fanno fare punti vittoria ma se noi costruiamo la fattoria potremo coprire gli artefatti sulle planche altrui quindi c'è anche dell'iterazione quindi diciamo l'entusiasmo attorno a questo progetto è alto sia da parte di Lang che ogni volta che ne parla sembra che abbia creato il gioco della vita ma quello un po' sempre e sia da parte di Asbro anche la mia aspettativa non è bassa perché ripeto va provato e lì tutto si giocherà secondo me sui poteri degli edifici se veramente creeranno delle dinamiche delle strategie con anche l'interazione così come mi aspetto da Lang effettivamente potrebbe essere un giochino niente male premesso che appunto non stiamo parlando del nuovo Hank o cosa del genere stiamo parlando di quello che dichiaratamente è un gioco ponte ecco beh Asbro Gaming può far solo un gioco ponte non mi ci vedo è già tanto per Asbro in questa fase proprio per il tipo di sì sì infatti mi sorprende mi sorprende allora ho googlato mi sono fatto anche un'idea rispetto all'artwork ed è fortissimo beh si riconferma il tema della sostenibilità pucciosità e vogliamoci bene però artwork è davvero bello mi ricorda un po' come stile 8 e mezzo 9 mi ricorda un po' i giochi della leather games con questi sì 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 bravo esatto con questa piattosità anche contrasti molto marcati e strizza l'occhio a quelli che strizza l'occhio a quelli che preferisce il nostro caro Fapos quelli di Sam Phillips la premessa è che non è solo Eric Lang ma c'è il coautore leggo che non è niente popo di meno che è Ken Grull un articolo lo mette tra parentesi l'ideatore di Epi Salmon quindi il titolo dell'anno e della vita quello giocabile è sguaiabile è la presenza è la presenza oscura che gravita in ogni nostra puntata vuoi o non vuoi salta fuori come un buon salmone salta fuori ogni puntata giusto controcorrente deve farsi notare no devo dire è entusiasmante mi ricordo un po' anche per come l'hai descritto un po' Tiny Towns non so se avete potuto giocarlo devo dire di no no io no è un titolo della quello che piazza la tessera devi raccogliere tutti le risorse attorno alla tessera che piazzi giusto e poi ti viene fuori il villaggio ah si esatto però praticamente tu dici la risorsa e tutti gli altri la devono prendere tranne tu che puoi prendere qualsiasi altra risorsa e devi completare una griglia che adesso non ricordo se è un 5x5 no più di 5x5 forse sarà un 6x6 in base alle configurazioni poi crea dei villaggi e appunto questi villaggi sono questi edifici scusate sono caratterizzati da dei poteri un po' questa cosa me l'ha ricordato poi vabbè hai detto hai detto carcassonne quindi il mio cuore si è già aperto alla meccanica del piazzamento tessere quindi no grande attesa grande attesa anche per l'operazione esatto sia per il gioco che per l'operazione Asbro è un'apertura è un'apertura forte al gioco impegnato da parte di un editore che fino ad adesso aveva fatto solo uno no? è loro mi pare no? Mattel ah scusi esatto allora loro lo presentano proprio come il primo o forse il primo dopo tanto tempo presentato puramente come Asbro quindi non appoggiandosi a una loro sussidiaria o a una loro diciamo acquisita perché bello 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 chissà che non sia solo un passo per tastare il terreno quindi da qui inizierà esatto loro dicevano proprio questo potrebbe rappresentare un vedremo insomma poi quindi entreranno in combutta con Asmodi poi vedremo vedremo la concorrenza fa sempre bene però bisogna vedere quello bisogna vedere se ecco io mi immagino questo Life in Re Terra di fianco ai Cluedo Monopoli i Saltimente secondo voi può una persona che appunto sta girando tra un petto di pollo e una scatola di cornflakes essere attratto a una grafica del genere forse sì forse no allora in Italia chi lo sa all'estero probabilmente sì ha fatto un discorso di questo tipo probabilmente sì 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 poi si sono affidati non al primo che passa quindi anche lì come dicevamo prima sì sì non solo Lang ma ripeto anche l'altro sì Epi Salmon è geniale cioè Ken Gru ha trovato una bella idea quindi chissà che non si ripetono bello bello mi piace grazie di questa cosa il mio portafoglio ringrazia prego prego poi stringo a mano io vi vi lancerei la notizia del premio per il gioco esperto dell'anno attenzione che non tutti lo conoscono io no allora il innanzitutto si chiama Expert Game Award ed è praticamente un conglomerato francese di esperti a cui ognuno di noi si può candidare se andate sul sito expertgameaward.com li trovate trovate tutti i giudici e vi potete candidare tranquillamente esiste dal 2015 ed è praticamente un premio per loro Inchpit che vuole premiare quello il gioco che più premia la strategia del giocatore cioè dove c'è meno impatto dell'alea alla fine fanno una sorta di selezione in buto prima che ne so prima 20 poi 10 alla fine ne tirano fuori 4 e da questi 4 votano quello che per loro è il vincitore dell'anno vi dico chi sono i 10 giochi candidati e poi vi dico chi è il vincitore partiamo con Darwin's Journey di Luciani e sempre di Luciani c'è anche Nucleum ok ok poi Sudiosi a sud del Tigri Egemoni Plantanubo Voidfall Ceres Cotnahora Apiari e infine Evacuation che sarebbe Exodus da noi in Italia Allora di questi ne allora volete tu aspetta Alex tu te lo ricordi che hai vinto? Ecco no ok volete provare a indovinare ora o vi stringo ancora il campo io ce l'ho guarda tra tutti ne conosco la metà giocati due però secondo me Egemoni è quello che dà più soddisfazioni è un giocatore esperto secondo me tu Alex mi fido mi fido Egemoni non è neanche entrato nella selezione finale dei quattro giochi i quattro giochi i quattro giochi finali sono Apiari no no andiamo fino in fondo allora i quattro giochi finali sono Apiari Studios a Sud del Tigri Nucleum e Voidfall volete provare ora o vi dico chi è il vincitore ma io vado ad Apiari così giusto perché mi piace la copertina Studios a Sud del Tigre ha vinto a Voidfall ma perfetto noi con i premi ci azzecchiamo sempre comunque siamo fortissimi tutti quelli tutti quelli che abbiamo detto a Cannes manco proprio azzeccati esatto siamo dei geni incompresi va bene comunque niente andate sul blog se vi interessa nella home page però no ce la dire che come dicevo nella puntata fantasma che non per qualche decennio varrà milioni di dollari se vai verrà ritrovata però che è interessante come prima mi piace questa questa filosofia adesso io non conosco se Voidfall non so dire se Voidfall rispetta questo claim questa loro dichiarazione però è un mi piace il fatto che abbiamo le idee chiare cioè non fa niente la grafica non fa niente nulla mettiamo come priorità il peso delle scelte del giocatore allora io vi do altre due notizie su autori italiani ok così proprio ok non lo sapete perché non l'ho scritto da nessuna parte allora la prima a tradimento esatto la prima notizia è della Motostudios che nel 2024 farà uscire Teocrazia è praticamente un gioco di Daniele Tascini di civilizzazione dove devi praticamente formare la tua civiltà che ti adorerà perché tu sei il dio indiscusso del loro mondo esatto il disegnatore è anche famoso però ora non mi ricordo cos'altro ha fatto ma abbiamo detto qualcos'altro di lui che è Andrew Bosley allora aspetta aspetta che te lo recupero vabbè comunque fa dei disegni belli figliatevi ha fatto solo due titoli bene vabbè c'è Everdell Everdell e Tapestry e non due vabbè sì vabbè comunque è lui l'altro titolo italiano è Supermundi è un titolo di Nessere Mangone ed è in realtà dovrà uscire in crowdfunding su Gamefound partirà il 7 maggio praticamente hai deck building e gestione della mano peso se ho capito bene peso medio pesante comunque peso medio Nessere Mangone ha il publisher Queen Queenhead Games che è celebre per fare giochi family casual giusto la Queen Games è famosa per i suoi giochi abbastanza importanti carne carne ghie hanno diversi giochi che hanno lanciato su Campania Kickstarter Gamefound tutti con una certa attenzione alla componentistica e alla grafica tutti quelli che hanno lanciato e Supermundi perché c'è la tensione perché segue un po' questo filone quindi bisogna vedere cosa vuoi come vogliono arricchirlo i materiali che c'è dietro le varianti che ci sono dietro con Carnegie Carnegie e loro avevano fatto un ottimo un ottimo lavoro ma ultimamente avevano rifatto Carson City avevano ampliato il gameplay avevano aggiunto delle cose l'avevano snellito l'avevano reso più fluido più bilanciato cioè ci hanno messo un mano in modo pesante Carson City era un gioco del 2015 loro la ripresa l'hanno fatto totalmente anche dal punto di vista grafico e quindi un po' un po' si vedrà cosa vogliono fare ecco allora io ho finito con le news ma in realtà di Nestore Mangone ma gancio al tuo Nestore perché per un editore che mi sa molto 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 simpatico che magari riuscirò a portarvi qualche parola sua nelle prossime nelle prossime puntate che è Lirius Games autori di Age of Comics gioco che io ho adorato no perché me l'hanno regalato perché ho fatto anche un po' da beta tester insomma c'è la bomba è stato un po' no no aspetta no beta tester no però diciamo che l'ho provato prima ho dato qualche qualche suggerimento era già in una fase avanzata quindi il gioco già c'era non voglio darmi meriti che non sono miei però diciamo così ho partecipato ho contribuito in piccola parte quindi Lirius i ragazzi di Lirius sono stati così carini da da omaggiarmi una coppia tra l'altro io sono dentro una carta una carta mi ritrae se avete il gioco ci sono dentro anch'io comunque è vero io l'avevo trovata la carta l'avevi trovata voglio la foto stasera sul gruppo Whatsapp e quindi con Age of Comics secondo me avevano fatto un lavoro incredibile ragazzi ricordiamoci che era il loro primo gioco la loro prima campagna un debutto a 360 gradi si sono fatti un mazzo pazzesco per quel gioco lì ve lo dico perché sentivo regolarmente i ragazzi di Lirius e la loro passione è veramente rara rarissima e è uno di quegli editori adesso io loro auguro tutte le fortune del mondo ha proprio come orientamento pochi giochi ma fatti super mega bene ipertestati eccetera eccetera Nestore Mangone se ricordo bene gli aveva aiutati per la modalità solitario di Age of Comics e invece è titolato diciamo come designer insieme ad Andrea Robbiani di questo Timeless Journey che è il prossimo gioco di Lirius Games che vedrà una campagna di crowdfunding anche lui e quindi insomma seguite seguite il progetto hanno presentato la copertina tra l'altro bellissima pochi pochi giorni fa l'autrice l'artista scusate è la stessa di Age of Comics che con questa copertina dà l'ennesima prova di criticità perché se voi avete visto Age of Comics cambia totalmente il genere assolutamente è fenomenale cioè riesce a modulare in base a quello che deve rappresentare con una attenzione attenzione è arrivata la foto sul gruppo Whatsapp quindi quindi la troverete nel mio commento al post su Giochi sul nostro tavolo che pubblicizzerà il podcast quindi cari telespettatori ascoltatori del podcast abbiamo trovato la copertina della puntata il gran bel primo piano del nostro Alex lo vedrete nel commento potete venire a buggerarmi a buggerarvi a prendere il gioco di me nei commenti io non vorrei dire ma ti hanno migliorato eh Alex comunque in quel disegno non che ci volesse molto e quindi anche in questo caso un ringraziamento a Laura Guglielmo doppio oltre per i bei disegni infatti quindi altro che eclettica questa fa miracoli miracolosa Laura beh si scherza si scherza allora vi dico due parole sul gamma perché nel frattempo c'è stato questo gamma tra l'altro non so se lo sapete ma la Lirius Games si è iscritta al gamma quindi fa parte di questo consorzio internazionale dei produttori di giochi vabbè è uscito da poco la notizia volevo parlarne con loro perché voglio capire bene quali sono le implicazioni è una cosa che mi ha preso un po' in contropiede perché non so effettivamente cosa voglia dire oltre al fatto ehi facciamo parte del gamma però volevo appunto indagare un po' su cosa significa profondamente infatti lo chiederò a loro e vi aggiornerò la prossima volta non lo so però se vai a vederti ogni report del gamma che puoi trovare su youtube eccetera alla fine fanno vedere queste sale enormi dicono che hanno tipo 300 espositori 300 espositori però non sono come non intendiamo 300 band diciamo o 300 editori di giochi cioè là c'è chi produce il gioco c'è chi produce gli accessori per il gioco c'è chi produce qualsiasi cosa che ha a che fare con il mondo del gioco che ne so tra i produttori della carta ai dadi eccetera però la cosa bella del gamma è che oltre ai giochi e le anteprime dei giochi che spesso vengono riportati poi alla Gencon o Essen ci sono poi le novità anche elettroniche del momento tipo l'editore che segui ma io tu stai fanno SPG sì che hanno fatto quel robottino Dungeon Claw interessantissimo e poi è un robottino aspetta è praticamente non mi ricordo come si chiama si chiama Oleg ecco se cercate Oleg è stato un progetto finanziato questo Oleg costa 230 euro all'interno 20 giochi memorizzati si piazza su una mappa ad esagoni e lui fa il lavoro per cui è stato programmato ma viene detto chiaramente questo è stato programmato per fare 20 giochi ma tu lo puoi programmare per fare qualsiasi altro gioco all'interno e con qualsiasi altra mappa progettata per farcelo navigare sopra e tu ci puoi mettere le miniature sopra e le fai girare per la mappa questo è uno oppure io ho visto le basette elettroniche colorate che si legano alla miniatura e poi si collegano penso col tablet col cellulare eccetera oppure le materiali di plastica sovrapponibili io ho visto tipo dei coni questa plastica lucida semitrasparente a seconda di come sovrapponi i coni cambia il colore ovviamente però applicati in un gioco da tavola non si era mai visto e quindi trovi tutte queste innovazioni strane e forse l'America in questo è più avanti di noi perché neanche in Germania adesso non compaiono queste cose compaiono prototipi bellissimi l'America è proprio avanti su questi temi è pronta ma vuoi perché la bacina d'utenza è più grande quindi ha bisogno di sorprese maggiori quindi non lo so credo anche un po' l'effetto wow io credo esatto credo che sia proprio adesso entro nel più becero diciamo così nel ghettizzare i giochi a tavolo che è una cosa che non mi piace in generale però in questo caso credo che proprio sia nella filosofia dell'American introdurre quel qualcosa di appunto effetto wow come dicevate uoi voi perché se ci pensate la miniatura la miniatura sempre più grande il Tulu da 45 centimetri gli scenari tridimensionali cioè è gli inglesi direbbero for the sake of it per se stessi che è quasi una sorta di autoreferenzialità mi è da dire del gioco sì perché comunque se tu come scuola hai quella dell'immersività cioè la scuola americana a parte il discorso dei dadi e l'alia cose del genere però punta tanto sul fatto che mentre che giochi tu ti senta coinvolto e lo fa nei modi più svelati possibili ripeto le miniature le metti 3d le applicazioni cioè sono sempre la ricerca di un nuovo modo per farti immergere nel gioco quindi il robotone che io io personalmente trovo forse un po' too much più che altro poi sviluppato così lo trovo un po' impacciato cioè lo trovo magari interessante come idea però magari mi sarei preso un po' di tempo in più per farlo forse un pochino più non so come dire elegante insomma così mi sembra proprio il rumba che gira sul tavolo non so come dire mi dà una sensazione un po' così effettivamente quindi l'idea ci sta è ovvio che secondo me sono in fase prototipale o comunque la prima cosa che uscirà ma lo vedo diciamo se in prima Kito mi ha fatto un po' stavuzziare gli occhi ha pienamente senso per per l'esperienza america del gioco che ripeto siccome va oltre il dado è proprio un discorso di immersione e anche il fatto di togliere il master quindi togliere il fatto che uno dei tuoi amici ti dica cosa succede che richiede sempre un po' di sospensione dell'incredulità il fatto che sia proprio qualcosa al di fuori tutti i tuoi amici sono coinvolti con te comunque un tentativo che ci può stare per ora mi comincia poco però insomma a me personalmente però lo seguo con l'attenzione ecco poi sempre al gamma vi dico due o tre cose rapidissime di cos'è che è uscito hanno presentato il nuovo set lego set lego parliamo di lego anche di Dungeons & Dragons perché la lego aveva fatto non so se vi ricordate tutta una serie di giochi da tavolo ne ho la metà si chiamavano eroica qualcosa quella ispirata a Dungeons & Dragons ora hanno fatto un set invece normale dove devi costruire il primo set se ho capito bene il primo di una serie si chiama Dungeons & Dragons Red Dragons Tale è bellissimo ragazzi è grande 3700 volete sapere il prezzo 2,99 Osmo ma che no credo di 360 scusami 2,99 sì non sei andato lontanissimo scusa avevo capito avevo pensato 200 mi sono fermato al 2 no 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 ma è è veramente bello non è un gioco come avevi detto giustamente Fapos quindi non c'entrano quegli esplimenti lì però le miniature le miniature gliele puoi mettere in mezzo per chi cerca di orami o cose così sì per tornare al discorso di Hasbro Dungeons & Dragons con comitanza cioè ha fatto vende ancora ecco mettiamola così non conosce crisi l'ego lo dimostra io qui farei però una parente non ci dilunghiamo però qua è più marketing no è Wizard of the Coast che tira tutto cioè è lei che ha in mano le cose che stanno vendendo tipo Magic eccetera Hasbro è sopra ne guadagna i frutti beh certo sì 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 quando dicevo che anche le parti in salute di Hasbro hanno perso sono stati licenziati parlavo proprio di quello cioè Wizard of the Coast si ha i prodotti in attivo tutti in attivo e hanno visto dei licenziamenti anche loro e sembra assurdo cioè è una macchina che funziona e licenzi gente ma perché avevo fatto riferimento prima stranissimo però purtroppo è così poi altre cose che si sono viste al gamma il prototipo di Arx di Cole Whirl il gioco della Leader Games e il disegnatore Kyle Ferring questo era un progetto Kickstarter forse comunque il gioco di maggioranza attesissimo altamente asimmetrico poi fatto dalla Rocksley Games che è praticamente lo stesso editore di Brass Birningham uscirà un family che si chiama Skyrise dove bisogna costruire dei grattacieli in altezza a bonus variabili potete vedere le immagini online sono fighissime questi grattacieli devi costruire i grattacieli più alti e prendere i tuoi bonus pubblici e bonus privati per fare poi il punteggio migliore gioco invece della Renegade Studio la Renegade Studio Renegade Game Studio scusate è americana e durante il Gamma Expo ha presentato una marea di cose ne ho presa una perché era fighissima da vedere ed è la riedizione di Roborelli Roborelli era un gioco di Dan Blanchett non so quanti anni fa comunque loro l'hanno ripreso e l'hanno unito ai Transformers Roborelli aveva queste macchine primo Roborelli scusate era di Richard Galfield guarda caso sì 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 confermo il mio idolo incontrastato e comunque il designer Dan Blanchett ha preso il gioco di Richard Galfield e l'ha implementato nel mondo Transformers tu non hai più la tua macchina che è in grado anche di sparare le macchinine vicine ma si possono trasfermare e a seconda che sia un'auto o un robot può fare cose completamente diverse si può muovere in modi completamente diversi una partita si allunga anche perché ora parliamo di una partita che invece di un'oretta dura anche un'ora e mezza poi andiamo avanti e anno questo è un pezzo da collezione a me non piace il risico ma questo è un pezzo da collezione sempre la Renegade studio farà la reimplementazione di risico 2210 che era un gioco futuristico loro l'ha ripreso hanno preso sempre Rob Daviau Rob Daviau per intenderci è quello che ha fatto i Pandemic Legacy ha inventato i Legacy è anche quello di Risk Legacy il primo Legacy ha fatto anche Tulu Death May Die ha fatto Mr. Legacy e gioconi esatto l'ha ripreso e ha detto rifaccio il gioco e lui lo sta rifacendo è uscito il prototipo io non ho avuto modo di approfondire però dovrebbe uscire in retail in America tra qualche mese poi ha tolto Rob Daviau ha tolto vabbè hanno fatto vedere qualche gioco mediamente pesante di brutto come Stellaris che è un gioco ispirato a un vecchio videogioco non c'ho molto da dire però abbastanza pesantino è un 4x ora palla a voi io vi saluto che ci stiamo avvicinando alla fine della puntata vi saluto con un commento su l'ultimo mio hype della della serata che è con l'ultimo mio hype di puntata che è Dune War for Arrakis che è un gioco della Mon ovviamente basato sulla licenza di Dune e è un gioco di quelli che in cui il mio interesse sale piano piano perché inizialmente l'avevo bollato come il solito giochino giochino giocone giochino barra giocone basato sulla licenza importante ma poi leggi di qua leggi di là salta fuori che è uno strategico di tutto rispetto opinione che si è consolidata quando ho letto i due autori che sono Marco Maggi e Francesco Nepitello che tanto per chiudere il cerchio con l'inizio della puntata sono i due autori anche della guerra dell'anello e chi ha giocato a questo gioco conferma che le vibes dalla guerra dell'anello siano molto forti insomma ci sono due fazioni asimmetriche il livello di complessità insomma sembra essere quello lì forse un filino o meno però quindi insomma tutti coloro i quali sono appassionati di Dune e tutti coloro i quali sono appassionati della guerra dell'anello qua hanno un cavallo vincente io invece vi saluto con la bomba della serata che vi abbiamo promesso sin dall'inizio puntata e signore e signori su segnalazione di Alex che ci vede sempre lungo andate e correte al McDonald perché 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 troverete negli Happy Meal quattro versioni di Double 28 carte che ogni confezione vi regalerà un divertimento pazzesco quindi 28 carte solo le Happy Meal solo le Happy Meal sì 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 solo le Happy Meal credo di sì non è tanto sì sono quattro edizioni sì sono quattro edizioni e credo siano quattro vabbè una è verde una è blu un'arancione però non mi ricordo esattamente che ma sai che sono sei abbiamo la versione Animals la versione Camping la versione Classic la versione Fantasy la versione Sport e la versione Water tra l'altro mi chiedo la versione Water sarà anche quella resistente all'acqua? chi lo sa lo scoprirete solo comprando le Happy Meal da McDonald's ma il fatto è che noi ci ridiamo e scherziamo a Double a McDonald's intanto mentre noi parliamo lo scommetto che sono già tutti esauriti perché queste cose qui quando il McDonald's fa tipo i Pokémon o le varie edizioni di qualche gioco strano finiscono tutti a ruba perché poi finiscono rivenduti subinte da prezzi mostruosi o in collezione e noi non li vediamo neanche col contagocce però hai colpito nel segno cioè ci rendiamo conto che Double è arrivato in un canale di distribuzione che è riservato a robot come i Pokémon cioè se se siamo consapevoli di cosa è Pokémon ci rendiamo conto anche di cosa sta diventando Double non che sia un segreto che Double sia stato il la rampa di lancio per Asmodee per tutto quello che ha fatto dopo però ragazzi tanta roba arrivare a McDonald's insomma ci arrivano i grandi castro animati si si può far solo bene al settore non sdoganare bravo si 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 è la stessa operazione che sta cercando di fare anche Asbro certo meno però esatto esatto bello 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 non male non male quindi andiamo a letto con tanta fame dopo mi viene voglia di dello spuntino di mezzanotte ragazzi due ore di registrazione salutiamo tutti buonanotte da Fappos da Stefano buonanotte e da Alex ciao 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 giochi sul nostro podcast il podcast ludico per approfondire gli argomenti trattati nel podcast visitate il sito www.giochisulnostrotavolo.it se volete contattarci fatelo attraverso telegram o via email trovate tutti i link in descrizione